Le locations di lo chiamavano Woldozer. La barca di Woldozer era posizionata al porto di Livorno, ma al canale dei navi scendi, non dove hanno girato Womber. Ho trovato la posizione esatta grazie alle due brugialle. Sembrano filappe. Spostandoci verso il calambrone si vede anche la zona dove ci sono i container e una volta arrivati a Marina di Pisa troverete tutti i luoghi percorsi durante gli allenamenti. La vecchia stazione del Gran Vino è in via Cagliaritana, Via Andò, la casa abbandonata e Piazza Sardegna. Altre scene come quelle del Galeone sono state girate a Viareggio. Fatemi sapere se volete vederle, mi piacerebbe anche portare uno speciale sulla casa abbandonata di Woldo. Ciao!